Eccoci tornati in sala, sempre qui nella sala dell'Otto Perla in Nova Gorizza. Stiamo seguendo su pokeritalia.org la gocce libere del poker, questo è il primo dei 1 a Cana delle Tigri. Vediamo che sono partiti 156, 86 players ancora in gioco, siamo al livello numero 9, anche 50, blinks 300-600. Possiamo dire che metà della sala come vedete è vuota perché hanno diviso per questa scena pausa-cena, metà sala è in pausa, l'altra metà continua a giocare e andiamo a fare uno sguardo un attimo sui tavoli di ancora in gioco che sono solamente 4. Questo è il tavolo numero 16. Tavolo 16. Ci spostiamo poi al vicino tavolo 17. Tavolo 17. Ci spostiamo al tavolo numero 18. E concludiamo questo breve giro con il tavolo numero 15, quello più vicino al pubblico. Riguardiamo un attimo il tabellone. Grazie. 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 Grazie.